salve a tutti amici di kipto jam e benvenuti a un nuovo video oggi andiamo direttamente a vedere chart è un progetto che a me interessa molto questo è agix ed è una blockchain che permette ovviamente i servizi e quindi sapevo in questo momento che la narrativa è molto di moda soprattutto dopo gli earning di nvidia abbiamo visto un jump nei token ai quindi andremo a vedere questo token quanto può performare ancora la performance che ha fatto i target che avevo e ovviamente andremo a vedere anche la call che abbiamo fatto perché ovviamente dentro la nostra community come vedete noi ovviamente accumuliamo progetti del genere soprattutto quando ci sono trenderi bassisti quindi come vedete il 6 6 avevo fatto la chiamata circa nella zona dei 26 25 centesimi quindi noi avevamo la zona di target circa 25 centesimi come zona di supporto per iniziare ad accumulare questo token come vedete abbiamo fatto anche un'altra call in quest'area quindi questo è quello che noi avevamo fatto avevamo accumulato prima che iniziasse il trend e questo ovviamente è quello che faccio io cercare progetti a basso market cap che hanno un grandissimo potenziale per poi allocare lasciare che vadano le cose quindi come vedete è un gioco di pazienza ci ha messo mesi a giocare perché se vedete comunque il livello dei 25 26 era ancora lì verso gennaio 2024 quindi stiamo parlando di quasi sette mesi di attesa prima di vedere un movimento questo è quello che faccio io di solito giocarla a lungo termine posizionarmi aspettare che pampi la situazione come vedete è arrivato dei minimi è arrivato dei minimi di il ottobre 23 di 0 16 come vedete ovviamente questo era un buon punto anche per entrare come vedete qui e da lì abbiamo fatto circa quant'è che adesso è un un circa un 258 per cento quindi andiamo a vedere il market cap il market cap si agisce intorno al miliardo in questo momento penso che questo può arrivare tranquillamente anche a 6 7 miliardi quindi ancora da qui può crescere ovviamente questo target come vedete 1.61 sapete che io uso i fibonacci per le mie analisi era un punto di target che avevo semplicemente preso tra il high e low quindi usando questo swing quindi usando questo swing come referenza avevo tirato un semplice fibonacci retracement e come vedete è andato a beccare il target del golden pocket o il golden ratio scusate quindi come vedete in questo momento abbiamo la zona di supporto che è stata infranta verso l'alto la zona di resistenza probabilmente diventerà un supporto quindi mi aspetto un ritest verso quest'area prima di una continuazione ovviamente non è sostenibile questo tipo di prezzo infatti non consiglio di saltare su questi progetti in caso vi siete mancati l'entrata e vi interessa però come vedete anche qui abbiamo una trend line che può molto probabilmente a lungo andare verrà toccata da qualche parte quindi l'obiettivo è vedere qualcosa di un po' più bearish qui io ho preso un 30 per cento circa dalla posizione che ovviamente quando vado oltre il 200 per cento intendo essere un po' più aggressivo sul take profit e quello che mi aspetto io è un incontro con questa trend line da qualche parte per poi una continuazione verso l'alto ovviamente se vedo per esempio una bullish flag una head and shoulder anticipo l'entrata cioè non aspetto esattamente questi punti però ovviamente questo per me è un blu off top infatti guardate i volumi questo è un blu off top e solitamente questi possono andare ancora un po' in alto magari va al livello psicologico di un dollaro e poi infatti siamo anche molto vicini come vedete dal dollaro siamo circa un 19 20 per cento un 15 per cento dipende da dove lo stiamo misurando se lo misuriamo dagli 86 comunque come vedete un 15 20 per cento dal target che non è così tanto basterebbe veramente un'ora di pump per portarlo un po' più su però ovviamente questo non è un punto dove consigliere di entrare nel senso se volete che a medio termine e a breve termine comunque essere in profitto anche se soprattutto che chi vuole entrare un po' più aggressivo sicuramente è meglio aspettare punti di pump ok punti dove sta andando il pump piuttosto che aspettare punti di ritracciamento poi volevo farvi vedere anche una cosa noi abbiamo dentro al servizio ormai da quasi due ormai siamo quasi due anni ormai che stiamo operando e stiamo facendo praticamente tutto live come dico sempre faccio vedere le call se entrate dentro anche il nostro servizio disco tutte le nostre chiamate ultimamente abbiamo fatto anche il l'analisi del portfoglio 100x dell'ultimo anno e mezzo quasi e come vedete abbiamo un sacco di token questi sono token in cui siamo entrati super presto e come vedete abbiamo un sacco di percentuali come vedete questo è quello che facciamo dentro cerchiamo di arrivare prima nei token per avere un'ottima entrata e come vedete alcuni fanno anche un 2200 per cento 90 per cento 320 per cento ne abbiamo altri che dobbiamo aggiornare guardate orai per esempio 545 per cento groc questo mi sa che è anche più alto vediamo un attimo questo questo è molto più alto di 340 per cento ne sono sicuro forse siamo sui 600 per cento quindi bisogna ricontrollare questo questo secondo me è molto più in alto bisogna ricontrollare comunque come vedete si può guardare qui quindi una volta entrato potete dare anche un'occhiata e poi abbiamo anche il portfoglio holding per chi vuole per esempio holdare dei wallet noi abbiamo anche ultimamente chiamato uniswap infatti oggi uniswap come vedete questa è stata la nostra call su uniswap intorno ai 6.3 e oggi proprio adesso mentre stavo facendo la live uniswap ha fatto una cosa fuori di testa uniswap ha fatto questo quindi come vedete giusto giusto l'entrata intorno alla zona dei 6.3 come vedete siamo un 70 per cento in pochissimo tempo quindi questo è quello che noi facciamo ovviamente cerchiamo anche di prendere le locazioni di bilanciare il wallet quindi un wallet un po' più generale ovviamente se volete una cosa un po' più focalizzata su ognuno di voi quella poi ci vorrebbe una cosa un po' più grata però ovviamente questo è un wallet da cui prendere spunto e lo gestiamo insieme ovviamente anche al nostro come vedete qui abbiamo la nostra 100x che verrà aggiornata sempre di più e abbiamo anche la nostra watchlist in cile dove teniamo d'occhio se vedete per esempio hedge bar quando è stato messo nella watchlist 0.76 se adesso andiamo a vedere hedge bar usdt come vedete hedge bar ha fatto guardate qui 0.76 in questa zona qui l'avevo messo nella watchlist come vedete un 64% quindi questo è ottimo bisogna tenere conto ovviamente anche di un possibile pullback infatti come vedete oggi bitcoin è anche lui tra i massimi io penso che potrebbe esserci un ulteriore e pump in senso questo sembra una flag però io me la sto giocando sulle all coin perché sinceramente ragazzi le all coin sono sono calde sono veramente veramente calde e ci stiamo avvicinando a un punto di top anche per quanto riguarda la dominance di btc in senso questo è il mio punto quasi finale per l'inizio della all coin season quindi come vedete qui a mio parere una volta che andremo qui in questa zona inizierà la all coin season quindi potrebbe arrivare qui o un po più in alto nella zona dei 60 comunque questo è il range che mi aspetta una all coin season quindi come vedete siamo qui nella prima zona di all coin performance e anche io faccio gli studi qua e condivido anche gli studi di questo però penso ancora che le all coin possano performare ancora di più e quindi come vedete bitcoin io lo uso per stabilizzare il mio wallet però quando arrivo a zone di all coin performance tendo a prendere profitto da ethereum o bitcoin come per esempio ethereum ho preso un 30% della posizione praticamente il mio target da due anni era dei 3k e ho cominciato ad allocarlo in androidx quindi c'è un sacco di androidx in cui lo sto allocando oggi xi per esempio uno di cui abbiamo parlato spesso guardate qua 1.4 anche questo qua per esempio per chi non ha preso il nodo l'avevamo chiamato a 47 centesimi circa e qui siamo circa a un 208% quindi il mercato ragazzi è caldo l'unica cosa che io vorrei dire è che bisogna cominciare a guardarsi intorno perché il mercato sta diventando molto infomato anche per chi è rimasto di lato molto tempo quindi se voi siete rimasti di lato per paura di entrare all'inizio quindi non sapevate se è e vedete adesso il mercato che sale e volete entrare una delle cose che vi consiglio di non fare assolutamente è entrare in cose del tipo queste, tipo queste erezioni di render render noi ne parlavamo anche c'è un ragazzo che me l'aveva consigliato che lavora anche con noi sotto il dollaro molti sono entrati in questa zona qui quando l'abbiamo richiamato che già in questa zona come vedete già questa è un'altra call ha fatto un 114% io non consiglio questi sinceramente non li consiglio perché a mio parere sono quelli che dopo da qui avvedremo un outflow non dico che non vanno più in alto ma se siete come me che vogliono fare anche gain su a breve termine io breve termine non dico due giorni anche se succede certa volta in 24 ore compri una cosa e esplode parlo di tre mesi due mesi per me questo è breve termine medio termine sei mesi otto mesi e lungo termine troppo un anno quindi breve medio termine che è quello su cui io punto spesso perché è quello che mi crea più flow di denaro ovviamente io non consiglio entrate su questo perché questo ovviamente il risk reward ormai sta diminuendo potrei sbagliarmi però ovviamente io preferisco cose che il loro risk reward è ancora ottimale e che posso entrare e mediare la posizione perché per esempio se dovesse entrare in render ok dovesse entrare in render e enda comincia a ritracciare pesantemente un black swan event o qualcosa lui ha spazio di scendere molto spazio di scendere potrebbe scendere qui potrebbe scendere qui o potrebbe addirittura andare a ritestare la zona dei due ok questo non lo sappiamo perché comunque sono scenari che sono già successi quindi abbiamo un rischio di circa 40 50 per cento almeno questa è la zona dove l'abbiamo preso la seconda call se non ho addirittura un 60 70 per cento a differenza per esempio di un ada che al massimo da qui fa un 20 30 per cento di tracciamento e poi puoi mediare quindi io guardo molto ste cose perché io guardo la mediazione delle mie entrate in senso se io faccio un'entrata e poi succede un black swan event qualcosa non voglio essere in coin che sono al loro top perché poi rischio che il downside è estremo ma voglio essere in coin che sono nella loro partenza magari non sono riusciti a partire perché c'è stato un black swan event e quindi hanno ritracciato ma comunque sono già entrato a un buon prezzo infatti quello che dico sempre che molta gente mi chiede sempre mi guardi questo coin e poi vado ad aprire il chart il coin tipo così ok tipo ha fatto un'erezione gigantesca ovviamente questo io non consiglio cioè mi viene potrei dirti sì cioè potrei dirti render molto probabilmente arriverà 15 dollari 20 dollari ma se tu mi chiedi adesso oggi entro proprio oggi con un bel capitale un capitale tipo non c'è non mi viene da dire si entra non mi viene perché semplicemente non è la mia strategia non è la mia tattica io quando vedo cose così magari ho perso il treno io ho molti progetti che hanno considerato anche in chat io non li ho presi e ho visto che ora sono esploso ovviamente ho perso il treno cosa faccio li rincorro no semplicemente so che ci saranno altri mille possibilità poi se andiamo a vedere per esempio render e andiamo a tirare una trend line come vedete è molto lontano dalla sua min quindi dalla sua media molto lontano dalla sua media perché questa la consideriamo la media in questo caso e ovviamente mi aspetto un pullback diciamo a breve quindi come vedete sta arrivando anche in una zona di possibile topping con questi con questa trend line quindi se andiamo a tirare un paio di trend line qui uniamo questi due punti come vedete possiamo toccare queste zone anche dei 10 dollari magari un punto tondo però eventualmente eventualmente queste coin tendono poi ad andare nella loro min e poi magari ritracciare fare una piccola rottura prendere liquidità fregare tutti e poi ripartire verso l'altro questa è una cosa che ho visto molto molto spesso potrei sbagliarmi questo fa così continua a salire all'infinito assolutamente sì però ovviamente io mi baso su statistica di diverse coin quindi non una coin o due coin ma 10 20 30 40 50 investimenti che faccio durante l'anno solitamente la maggior parte fanno esattamente quello che penso così e magari alcuna sì mi frega va su e non torna più magari non ritraccia più può succedere basta guardare ing per esempio di quelli che ho comprato preso profitto ho aspettato di nuovo devi entrare e poi alla fine non è più ritracciato da nessuna parte quindi questo succede assolutamente e quindi bisogna tenerlo di conto comunque date un'occhiata a render a agix agix anche quello io direi 50 centesimi con la zona di tracciamento e poi farò fatemi sapere ovviamente anche voi se volete un video specifico su uno di queste due oppure per esempio sulle ai in generale tanti mi chiedono delle ai io devo essere onesto non mi sono esposto in maniera gigantesca sulle ai forse anche un errore perché comunque ho guardato altri progetti soprattutto il gaming poi vi dico la verità il gaming è esploso comunque però per esempio agix render e altri questi i classici comunque fetch ai uno di quelli che abbiamo chiamato orai uno di quelli che abbiamo chiamato cioè molti li ho presi ovviamente avrei potuto prenderne di più molti che sono erano molto in voga assolutamente sì però come vedete ho una strategia la seguo aspetto anche un ritracciamento perché secondo me le ai sarà la nuova narrativa del bull market quindi aspetto anche un ritracciamento rimango posizionato infatti non ho preso grandi posizioni grandi take profit dai miei progetti ai perché semplicemente non ho un'allecazione aggressiva come per esempio nel gaming o nella blockchain nel layer one quindi nel layer one prendo più spesso profitto perché sono molto molto esposto nel gaming prendo spesso profitto perché sono esposto da entrambi i lati a livelli di node a livelli di qualunque cosa sono esposto e quindi non mi dispiace prendere profitto riallocarlo a livello di e ai non sono ancora così esposto ma sto cominciando un'allocazione quindi ho già un'allocazione buona ho già fatto ottimi gain però sto cominciando a stabilizzare il mio wallet quindi questa è una cosa che parleremo sempre più spesso soprattutto verso mentre entriamo verso il bull market probabilmente si inizierà fra sei mesi o fra un anno non si sa io ovviamente spero che inizi sempre più tardi perché in questo momento anche senza arrivare lì all time high si fanno un sacco di soldi quindi il bull market solitamente mi dà la sensazione che a breve tra sei mesi un annetto finirà il trend realsista io amo i trend realsisti perché sono i più facili da cavalcare farci dei soldi e ci sono sempre ottime possibilità quindi io ovviamente spero nel ritardo leggero di un bull market nel senso sei mesi o otto mesi un annetto in modo che comunque ci sono ancora ottimi progetti che magari qualche narrativa blackzone event li faccia scendere per cui poi noi possiamo accumularli tranquillamente comunque ragazzi questo è tutto per quanto riguarda agix ovviamente se vi interessa far parte anche della community trovate sempre i link sotto molti me li chiedono dove sono i link sono sempre sotto i video ragazzi non seguite i link strani non chiedetevi neanche nelle chat perché comunque non sapete se sono io o no a quello che risponde visto che alcuni fanno fake account comunque questo è il link oppure seguite direttamente quelli sotto c'è solo il discord oppure c'è sito più discord se intendete cambiare vita in senso studiare realmente ragazzi e vedere live buy sell tutto quanto live mentre studiate quindi mentre studiate questo è l'unico servizio dove studiate da una parte e dall'altra effettivamente vedete noi cooperiamo facciamo soldi quindi da una parte studiate vedete i concetti che studiate applicati questo è l'unico servizio che esiste non esiste nessuno al mondo simile l'ho creato io a immagini e somiglianze di quello che avrei voluto avere quando iniziato quindi da una parte studi e dall'altra applichi o guardi noi che applichiamo e prendi appunti quindi veramente ottimo cresceremo sempre di più ne sono sicuro abbiamo una community molto forte molto preparata e niente ragazzi questo è tutto lasciate sempre like mi piace condividete il video e ci vediamo al prossimo